Siccome si continua, chi sbaglia paga, certamente è una regola che deve essere osservata da tutti e quindi chi non la osserva deve pagarne le conseguenze. 15 nuove fototrappole per rintracciare chi sporca la città, anche Margherita di Savoia, tra i comuni beneficiari dell'importante strumento di sorveglianza ambientale, servirà a tener d'occhio gli sporcaccioni e a punirli. 131 alle domande approvate su 135 pervenute per un totale di 1.700 fototrappole a seguito di un avviso pubblico dell'Ager, l'Agenzia regionale per il servizio di gestione dei rifiuti. Ci sono sempre gli imbecilli che continuano ancora a gettare rifiuti nei posti più impensabili, però in verità devo dire che è diminuito notevolmente questo fenomeno, però continua ancora. Il controllo noi continuiamo a farlo anche attraverso la polizia ambientale che abbiamo a disposizione. Due giorni fa ci è arrivata questa bella notizia che il comune di Margherita è risultata beneficiaria dell'assegnazione di 15 fototrappole che sono state messe a disposizione dell'Ager attraverso questa determina di tre giorni fa del direttore generale. Per cui proprio stamattina mi sono interfacciato con i tecnici dell'Ager e mi hanno detto che Massimo entro il 15 e il 20 febbraio verranno consegnate queste fototrappole. Avremo quindi la possibilità di dividere queste fototrappole in tutto il territorio margheritano e quindi avere la possibilità seria di individuare quegli sporcaccioni che continuano ancora a non utilizzare le dovute attrezzature per deporre i nostri rifiuti e quindi ci sarà un controllo più serrato sotto questo punto di vista.